let's go bitches eccoci qui con un altro episodio di classi overpower e in questo caso voglio parlarvi del Razorback come avete visto dai miei stream o comunque dai miei gameplay non l'ho usato molto non è vero è stata una delle prime armi che ho maxato assieme agli AR come potete vedere e quello di cui voglio parlarvi del Razorback è che una delle armi più versatile e utili di questo gioco è un mini fucile d'assalto con la mobilità di un smg questo perché guardate comunque il range che ha e la precisione rispetto alle altre armi è veramente elevato e consente di fare un buon danno anche a media e lunga distanza utilizzato assieme estrazione rapida ovviamente il classico grip dall'impugnatura sotto per ritornare in culo canna lunga e rapid fire quest'arma diventerà un assoluto cannone potrete challengeare tranquillamente le persone dietro agli egglich gli AR senza nessun problema perché oltre a fargli rinculare l'arma sparirete veramente veloce e finirete per outgannarli quest'arma secondo me è sbagliata in questo modo perché finisce per essere come il vector di call of duty ghost che faceva long shot a chilometri e dato che in questo gioco il flinch è molto elevato se si viene colpiti frontalmente con quest'arma potrete tentare qualsiasi challenge pericoloso o comunque difficile perché non ha rincula le sue tacche di mira sono ottime e comunque potrete riuscire sempre a uccidere le persone grazie alla combinazione tra rapid fire e canna lunga che aumenta la caduta del danno ovviamente con la distanza perk 1 perk 2 perk 3 classico che avete sempre visto flag jacket fast and tactical mask fatemi sapere voi ragazzi che siete su one se l'avete provata io vi saluto becce spero vi sia piaciuto questo video let's go